ok, vai, vai aspetta quando si emoziona un video in, vai vada di me la foto vai in inglese vai, vai eeeh, make the photo eeeh, make the photo a pizza a pizza come la pesca e poi se metto la villa che è proprio la bici lei è di me il muro? eh, pure lui sta a me il muro voglio vedere il passaporto voglio vedere il passaporto voglio vedere il passaporto vabbè io sono rimasto da me vabbè io sono rimasto da me li la posso, li dai, vieni vai la vabbè reck Guarda quanto è brutta sta qua, questa non è alcolica, è che sta a me, è sciroppo di menta. Oh, alcolica. Oh, alcolica.